Il giorno della Calabria Il giorno della Calabria di Leonida Repaci Quando fu il giorno della Calabria Dio si trovò in pugno 15.000 km di argilla verde 15.000 km quadrati di argilla verde Con riflessi viola Pensò che con quella creta si potesse modellare un paese Per due milioni di abitanti al massimo Era teso in un vigore creativo il Signore E promise a se stesso di fare un capolavoro Si mise all'opera E la Calabria uscì dalle sue mani Più bella della California e dalle Hawaii Più bella della costa azzurra E degli arcipelaghi giapponesi Diede all'asila il pino All'aspromonte l'ulivo A reggio il bergamotto Allo stretto il pesce spada Scilla le sirene A chianalea le palafitte A bagnare i pergolati A palmi il fico Alla pietrosa la rondine marina A gioia l'olio A cirò il vino A rosarno l'arancio A nicotera il fico d'india A pizzo il tonno A vibo il fiore A tiriolo le belle donne Alla mendolea le cicale Al crati l'acqua lunga Allo scoglio i lichene Alla roccia l'oleastro Alle montagne il canto del pastore Errante da uno stazio all'altro Alle spiagge la solitudine All'onda il riflesso del sole Diede a cosenza l'accademia A tropea il vescovo A san giovanni in fiore Il telaio a mano A catanzaro il damasco Ad antonimina il fango medicante A daniana la lignite A villa san giovanni La seta greggia A bel monte il marmo verde A segno pitagora a crotone Orfeo pure a crotone Aristeo pure a crotone Filolao pure a crotone Zaleuco all'ocri Ibico a reggio Clearco pure a reggio Glauco a reggio Cassio d'oro a squillace Giochino da fiore a celico San francesco a paola A telesio a cosenza Il parassio pure a cosenza Campanella a stilo Mattia preti a taverna Gallupi a tropea Gemelli careri a tauronova Manfroce a palmi Cilea pure a palmi Alvaro a san luca Dono a stilo la cattolica Rossano il patirion A san marco argentano La torre normanna All'ocri il santuario di Persefone A squillaci il tempio della roccelletta A cosenza la cattedrale A gerace pure la cattedrale A crotone il tempio di Eralacinia A tropea il Duomo A san Giovanni in fiore La badia Florenze A vibbo la chiesa di San Michele A mileto la zecca A reggio il tempio di Artemide Poi distribuì i mesi e le stagioni Alla Calabria Per l'inverno concesse il sole Per la primavera il sole Per l'estate il sole Per l'autunno il sole A gennaio diede la castagna A febbraio la pignolata A marzo la ricotta Ad aprile la focaccia A maggio il pesce spada A giugno la ciliegia A luglio il fico melanzano Ad agosto lo zibibbo A settembre il fico d'India Ad ottobre la mostarda A novembre la noce A dicembre l'arancia Vole che le madri fossero tenere Le mogli coraggiose Le figlie contegnose I figli immaginosi Gli uomini autorevoli I vecchi rispettati I mendicanti protetti Gli infelici aiutati Le persone fiere Le ali socievoli Ed ospitali Le bestie amate Vole il mare sempre viola La rosa che sboccia anche a dicembre Il cielo terzo Le campagne fertili Le messi pingui L'acqua abbondante Il clima mite Il profumo delle erbe inebriante Operate tutte queste cose Nel presente e nel futuro Il Signore fu preso Da una dolce sonnolenza In cui entrava la compiacenza Del creatore Verso il capolavoro raggiunto Del breve sonno divino Approfittò il diavolo Per assegnare alla Calabria Le calamità Le dominazioni Il terremoto La malaria Il latifondo Il feudalesimo Le fiumare Le alluvioni La peronospera La siccità La mosca olearia L'analfabetismo Il punto d'onore La gelosia L'onorata società La vendetta L'omertà La falsa testimonianza La miseria L'emigrazione E dopo le calamità Le necessità La casa La scuola La strada L'acqua La luce L'ospedale Il cimitero E ad esse aggiunse Il bisogno della giustizia Il bisogno della libertà Il bisogno della grandezza Il bisogno del nuovo Il bisogno del meglio E a questo punto Il diavolo si ritene soddisfatto Del suo lavoro Toccò a lui Prendere sonno Mentre si risvegliava Il Signore Quando aperti gli occhi Poteva abbracciare In tutta la sua vastità La rovina creata Alla sua creatura prediletta Dio scaraventò Con un gesto di collera Il maligno Nei profondi abissi del cielo Poi Lentamente Rasserenando Si disse Questi mali E questi bisogni Sono ormai scatenati E debbono seguire La loro parabola Ma essi Non impediranno Alla Calabria Di essere come Io l'ho voluta La sua felicità Sarà raggiunta Con più sudore Ecco tutto Utta fa giorno Che a notte è fatta Una notte Che contiene Già l'albore del giorno Sulla scia Di questa splendida Lirica del poeta Calabrese Leonida Repaci Interpretate Egregiamente Da Tosca Pizzi Accompagnata Da Carmelo Maesano E Vincenzo Casile Vi rivolgo il più cordiale Benvenuto E vi ringrazio Per aver partecipato Così numerosi A questo importantissimo evento Organizzato Da Palmarita Mafrici Referente Della Commissione Ambiente e Turismo Della FIDAPA Sezione di Melito Che io ho l'onore Di presiedere Saluto E ringrazio Per la partecipazione La Presidente Del Distretto Sud Ovest Angelo Infantino Le amiche Delle FIDAPA Di Reggio Morgana Rivolgo un affettuoso saluto Alle past presidenti Che mi hanno preceduta Caterina Zappia Giosi Careri Giulia Naimo E Luisella Marra E un saluto particolare Al mio direttivo Giulia Careri Roberta Zampaglione E Patrizia Bognone E un particolare saluto Naturalmente A tutte le socie Che collaborano Sempre con molto impegno Ad ogni evento Un saluto Al consigliere provinciale Pierpaolo Zavettieri Al maresciallo Caminiti Antonio Comandante del comando Stazione Carabiniere Di Melito Portosalvo Ho il piacere anche Di presentare Il presidente provinciale Col diretti Di Reggio Calabria Francesco Sacca E il responsabile Michelangelo D'Ambrogio Dell'area comunicazione Condotta Slow Flood Di Reggio Calabria Ancora i saluti Saluti per il professor Elio Cotronei Direttore dell'università Della terza età Di Bova Marina L'avvocato Pasquale Pizzi Presidente del circolo Meli Di Melito Portosalvo La dottoressa Franca Carabotta Presidente sezione CIF Di Melito Portosalvo Il dottor Alfonso Picone Chiodo Past Presidente del CAI Il dottor Lucio Nucera Direttore sanitario Dell'ospedale Tiberio Evoli Di Melito Portosalvo E un saluto Lo voglio rivolgere Anche alla stampa Stasera abbiamo il piacere Di avere il dottor Vanni Fondi Giornalista del Corriere Della Sera Edizione Campana E il direttore Di Melito TV Caposud Dottor Vincenzo Vinci Do E un attimo Ci fermiamo L'era arrivato il dottore L'era arrivato il presidente Il dottore Bombino Proprio nel momento in cui Lo stavo per presentare Grazie a tutti E' arrivato il momento giusto Il professore Bombino In ritardo per motivi istituzionali Inprorocabili Saluto quindi a questo punto Tutti i nostri illustri Relatori Che ci intratterranno sul tema Che sarà loro esaminato Nei diversi aspetti Inerenti alla loro attività E quindi saluto il professore Giuseppe Bombino Presidente Ente Parco Nazionale Aspromonte La professoressa Elvira Leuzzi Responsabile regionale Col diretti Donne Imprese Calabria Nonché componente Distrettuale Fidapa Commissione Agricoltura E l'architetto Giuseppe Battaglia Guida escursionistica Ed ambientale A voi tutti Un coloroso grazie Per l'autorevole Contributo Che sicuramente Darete ai lavori Di questo nostro convegno Un convegno Dal titolo Alla scoperta Del nostro territorio Viaggi tra sapori E natura La nostra grande bellezza Alla scoperta dunque Di scenari Entrati nelle pagine Dei romanzi Nei versi delle poesie Come abbiamo appena ascoltato Un viaggio Che affronteremo Con la curiosità E il desiderio Di scoprire La grande bellezza Del nostro territorio Tra saperi Sapori E natura L'iniziativa Infatti È patrocinata Dall'ente Parco Nazionale Aspromonte Ed è strutturata In tre fasi Un convegno Una mostra Fotografica Dal titolo Il pane delle donne Realizzata Da Santino Amedeo Con il contributo Della FIDAPA Sezione di Melito Portosalvo Mostra che rappresenta Il lavoro E l'impegno Femminile Nella Calabria Ionica Ed infine Come avete potuto Notare È la presenza Degli stand Di prodotti Tipici locali Di Campagna Amica Col diretti E Slow Food La parte artistica Musicale È stata curata Da Tosca Pizzi Che colgo L'occasione Di ringraziare Sempre vicina Alla FIDAPA E sempre Con il suo Eccellente Contributo Artistico Che con molta Professionalità Riesce a dare I nostri eventi L'evento L'evento Come ho detto Prima È stato Organizzato Dalla Commissione Ambiente Turismo Di cui È referente Palmarita Mafrici Palmarita Mafrici È Un'imprenditrice Ma soprattutto Consentitemi Di aggiungere È una mia amica Da una vita Che con determinazione Con grinta Con entusiasmo Che la contraddistinguono In ogni cosa Ha organizzato Questo grande evento Che ha visto Per la prima volta A Melito Portosalvo Qui a Melito Portosalvo La FIDAPA L'Ente Parco La Coldiretti E lo Slow Food E questa energia Questa Tutto ciò È stato possibile Grazie Alla Intraprendenza All'energia E alle competenze Di Palmarita Un ringraziamento Va anche Alla Commissione Straordinaria Del Comune Di Melito Portosalvo E all'Associazione Gli Amici Del Museo Garibaldino Associazione Presidita Da Chiara Tropea Un grazie Va a Spisal Di Nino Spinella Mobili Pizzi Stil Dolce Di Mimmo Stilo Per aver contribuito Alla realizzazione Di questo evento Consentitevi Di ringraziare Per la collaborazione Anche Don Domenico Vincenzo Plutino E Gianluca Burruto Prima Di dare inizio Ai lavori Invito Il Presidente Provinciale Della Coldiretti Di Reggio Calabria Francesco Sacca Ad avvicinarsi Al tavolo Per un saluto Grazie Buonasera a tutti Mi fa piacere Che siete numerosi Me lo aspettavo Però Dato il caldo Ora stiamo benissimo Ringrazio ovviamente La Presidente Altomonte Ringrazio Palmarita Che mi ha Contattato Qualche mese fa Chiedendomi Aiuto Per organizzare Il convegno Ma lei Ce l'ha fatta Da sola E il mio aiuto E il mio aiuto È stato quello Di portare Campagna Amica Portare Donne Impresa Che Con Elvira Leuzzi Che fra poco Parteciperà Ai lavori Del convegno Il tema Del convegno Alla scoperta Del nostro territorio Noi il nostro territorio Veramente Alla scoperta Noi dobbiamo proporlo Agli altri Ma dobbiamo scoprirlo Principalmente noi Poco fa Venendo qui Mi ero Prima fatto Un bagno a mare È pieno di gente Però è pieno di gente Che sono O di Melito O dell'Interland O la maggior parte Di Reggio E una località Turistica del genere In un altro posto Sarebbe stata Con i tappeti Rossi Per arrivare Qui io non sono Potuto passare Con il passeggino Di mia figlia Ora Se noi non capiamo Ognuno per la nostra parte Di scoprire il nostro territorio E quindi di valorizzarlo Al massimo Ma non solo L'ambiente marino Perché quei due mesi d'estate Che ci portano Diciamo Il bene Anche se il Repaci Nella sua Ha detto che Nella sua poesia Ha detto che Ci ha dato il sole A gennaio Il sole a febbraio Il sole a marzo È vero Ma noi lo sappiamo sfruttare Soltanto due mesi l'anno Gli altri mesi ci Danniamo Perché il sole Magari Fa troppo caldo Perché ci rovina Le coltivazioni O per altri problemi Dovremmo veramente Riscoprire il nostro territorio Dalla montagna Al mare Qualcuno ha detto Qualche giorno fa Sul giornale Che la Calabria E il sud Italia In generale Non dovrebbe vendere Il suo mare Ma dovrebbe pensare Più al territorio Della montagna Perché il mare Diciamo Si vende da solo Le cose migliori Ce le abbiamo All'interno Ed è vero Provenendo Noi Essendo qui Nella zona Dell'area grecanica Non abbiamo sentito Quello che ha dato Il signore All'area grecanica Vorremmo dire Che ci ha dato Garibaldi Però io non sono Garibaldino E non lo dico Per cui Non Permettetemi la battuta Però voglio dire Dobbiamo veramente Ognuno di noi Riscoprire Le nostre Bellezze Le nostre Che abbiamo Da fuori Casa nostra Fino a tutto Il territorio calabrese E fare un'inversione Di tendenza E di cultura L'inversione Di tendenza Di cultura E quella di capire Che il territorio Non è solo nostro Ma dovrebbe essere Utilizzato Da tutti Dobbiamo fare venire La gente Ci ammazziamo Con il fatto di I prodotti tipici Li portiamo fuori Dobbiamo prima Conoscerli noi Noi la maggior parte Dei prodotti Che ci sono sul territorio Nostro Non li conosciamo Nemmeno Non conosciamo L'azienda Accanto a noi Che vende Un prodotto D'eccellenza Però conosciamo Sicuramente Magari Le Maldive Conosciamo Sicuramente Tutti conoscono La Coca Cola Ma i prodotti Che facciamo Da noi Li disconosciamo Non li conosciamo Per niente È come se Non ci fossero Quindi dobbiamo Cominciare Dal conoscere Il nostro vicino Valorizzare Il nostro territorio In questo modo E quindi Aprire La nostra città Il nostro territorio Ad un turismo Che viene di conseguenza Ma perché ci dobbiamo Credere noi Ci dobbiamo credere noi Nella nostra terra Dobbiamo credere noi Nelle nostre capacità E dare Questo impulso Perché se non crediamo Noi stessi Non verrà mai nessuno A darci una mano Su questo Veramente La Col di Retti Con Campagna Amica Facciamo uno sforzo In mane La gente ci riconosce Il lavoro che facciamo Vediamo che ogni domenica Anzi In questo momento Siamo presenti Su altri mercati Tipo Scilla Stamattina Reggio e Villa Negli altri giorni Siamo presenti In quasi tutta la provincia In molte zone Saremo presenti anche Fra qualche Per agosto Mi pare Abbiamo avuto dei contatti Anche a Gambari Con l'ente parco Per cui La gente ci riconosce Questo lavoro Col di Retti Non fa altro che Valorizzare i prodotti Del territorio Valorizzare le aziende agricole Gli imprenditori Affinché questo possa succedere Vi ringrazio Non vi voglio tenere Doveva essere solo un saluto Vi lascio ai lavori Del convegno E che saranno sicuramente Più interessanti Quello che sto dicendo Però Mi piace Che Ognuno di noi Abbia coscienza Delle bellezze Che abbiamo intorno E dobbiamo valorizzarle Ognuno nel nostro piccolo Grazie E prima di entrare Nel vivo del convegno Ancora un intermezzo musicale Con Carmelo Maesano Compone e canta musica Tradizionale calabrese Scrive canzoni e poesie In vernacolo Ha collaborato con Cumelka E Gianni Favasuli Stasera ci farà Ascoltare due brani Uno in dialetto calabrese Dal titolo Lulupu Das Promunti E l'altro In lingua grecanica Ela Ela Mukonda Grazie Carmelo Un saluto a tutti E ringrazio Che mi ha voluto qua Per questo piccolo intervento Ma spero piacevole Musicale E notte mi ha cammino Per la Spromonte Sotto a tutti Sotto a tutti Che stai Dilucenti L'aria frida Grazie per la visione 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti